Allora amici, nel video precedente vi ho mostrato come si doveva fertilizzare e correggere il terreno per il nostro orto biologico. Oggi vi mostro come bisogna posizionare i tubi porosi e il telo facciamante biologico sul terreno. Allora useremo del tubo poroso che è venduto in confezione da 15 metri e del telo in Mater B, sempre biodegradabile. Poi useremo dei manicotti, delle curve, delle T e dei picchetti per fermare il tubo. Allora abbiamo già steso una porzione di tubo per accelerare il video, adesso vi mostro come andare a collegare il nostro tubo poroso. diciamo che tutto è in gastro, in questo modo. Allora faremo tre linee sul nostro orto per fare diciamo le tre file di ortaggi. Ecco in questo modo. Ecco, per mantenerlo fermo useremo i nostri picchetti. qua andremo a posizionare i tubi porosi. Ecco in questo modo. qua andremo a posizionare i nostri tubi porosi. Qua andremo a posizionare i nostri tubi porosi. chiamo, che andremo a posizionare i nostri tubi porosi. e adesso andremo a posizionare i nostri tubi per ammazzare i nostri tubi porosi. Nel prossimo video vi faccio vedere come andremo a posizionare con una tabella che abbiamo realizzato le piante in modo sinergico al prossimo video